Degrado ed abbandono, questo avvolge la fontana della frazione Marane restaurata all'incirca nell'anno 2000. Le immagini video sono chiare, marmo distrutto non solo dagli agenti atmosferici ma anche dall'incuria di chi dovrebbe ripulire il patrimonio cittadino. Il marmo bianco della Maiella è andato in frantumi a causa del freddo, i tecnici infatti dicono che non sia un materiale idoneo per le nostre zone, troppo fragile e facilmente usurabile. Ma anche l'invaso sporco e tombino di sgombero otturato che crea un acquitrino quasi impossibile da scavalcare per una semplice bevuta. La protesta è arrivata dai residenti, stufi di dover fare i conti con una frazione lasciata completamente abbandonata. Sono mesi che la fontana è inavvicinabile, torna ai residenti, il tombino non riesce più a smaltire l'acqua e nessuno si preoccupa di porre rimedio. Eppure quella fontana è un punto di ristoro per i tanti sportivi che mattina e pomeriggio affollano la nostra strada. Quella ai piedi del monte Morrone, è giusto ricordarlo. L'antico lavatoio continuano fu restaurato nell'anno 2000 per cercare di mantenere integro l'antico patrimonio, patrimonio storico che purtroppo non esiste più. Oggi a distanza di 18 anni la stessa fontana sembra irriconoscibile. Marmo completamente rotto e pezzi sparsi quella, per non parlare poi della sporcizia che regna sovrana. Nessuno spazza gli angoli, carte, bottiglie e un acquitrino da volta stomaco. Possibile che nessuno guardi? Siamo amareggiati e speriamo che qualcuno si prenda la briga di ripulire l'invaso e i tombini. Noi, concludono, ci appelliamo all'amministrazione e al consigliere delle frazioni, Andrea Ramunno, affinché venga a vedere di persona le reali condizioni della fontana. A pesare come un macigno anche la manutenzione delle stesse strade è il taglio dell'erba, una condizione di degrado che proprio non appartiene al territorio, pezzo importante del polmone verde d'Abruzzo.